Beh, signori, davvero questo mondiale è molto ma molto strano, non solo per, diciamo, che si fanno in inverno, e questa è già una parte molto diversa, che questo rimarrà già nella storia di tutto il mondiale, perché è il primo mondiale che si fa in inverno. Ma a parte questo, ma le partite, le prime giornate che si stanno formando sono davvero epiche, si sono concluse, diciamo, con molti, ma con molti retroscena che davvero c'è da analizzare. Infatti, ieri abbiamo visto la sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita, dove bisogna dire che, se non avete visto ovviamente il video del post partita, andatelo a vedere dopo questo video post partita. Comunque, stavo dicendo che ha fatto più tiri, è vero, però l'Arabia Saudita l'ha vinta, quella partita, grazie alla personalità che ci ha messo. Oggi è successa la stessa identica cosa, con Germania-Giappone. Ebbene sì, iniziamo con questa partita. Germania-Giappone, risultato 1-2 per il Giappone. Partita dominata dai tedeschi, dominata, lo continuerò a dire dominata, nel primo tempo, dove, diciamo che, proprio la stessa identica cosa, la Germania ha segnato sul calcio di rigore e anche l'Agentina ha segnato sul calcio di rigore, davvero tantissimi retroscena. Comunque, la Germania, inoltre ha segnato con Wudogan sul calcio di rigore, nel primo tempo, il Giappone nel primo tempo ha spazzato, spazzava solo palloni e non riusciva, diciamo, a gestire il proprio gioco. Nel secondo tempo, si è visto, diciamo, il Giappone, soprattutto negli ultimi minuti, dove ha fatto un gol al 75esimo, non mi ricordo i giocatori ragazzi, i giocatori giapponesi, non ne tengo tanti presenti, quelli là che hanno segnato. Comunque, al 75esimo ha segnato, ha pareggiato il Giappone e poi, inoltre, ad 81esimo, verso 81esimo, 82esimo, ha risegnato il Giappone. E, vabbè, lì bisogna dire che la Germania, appena subito il gol, ha avuto un calo. Ha avuto un calo, forse, diciamo, dovuto ai cambi, infatti forse dal CT della Germania ha sbagliato qualche sostituzione, è probabile poi anche, diciamo, la stanchezza si faceva sentire, perché, diciamo, la Germania non riusciva a raddoppiare e a chiudere questa partita e allora il Giappone è normale che prima o poi il coltello doveva fare, anche se immeritatamente, bisogna dire che il Giappone ha vinto immeritatamente in questa partita, perché, allora, io, come se io ieri, voi lo sapete, se avete visto il video di ieri, io ho detto che le partite, ieri nei mondiali si vincono con la personalità, è vero, sì, lo confermo perché l'ho detto io, però il Giappone non ha vinto con personalità, ha vinto con fortuna, perché la Germania, ragazzi, ha fatto 10 tiri, entro il Giappone, quanti ne avrà fatti? 3, 4, in tutta la partita, cioè, quindi, ragazzi, non diciamo che il Giappone ha meritato la partita, è che la Germania ha avuto un calo negli ultimi minuti dove poi si è fatta fare, questo è, diciamo, l'errore che c'è stato. Poi, andando avanti nel Girù, nella Germania, Spagna-Croazia, Spagna-Costa Rica, andando avanti, una partita dominata solo dagli spagnoli, 7-0, Gavi, questo è un ragazzo molto, molto bravo, che ha tantissima qualità, è un giocatore che davvero ha tutto, io mi domando questo a 24-25 anni come sarà, ragazzi, è per fortuna che ne ha 18, il Barcellona è fortunato ad avere un calciatore di questo genere, è il secondo giocatore, dopo Pelé, ad aver segnato a 18 anni al Mondiale per la prima volta, ragazzi, non è facile andare in un Mondiale a 18 anni, figuriamoci con Pelé, Pelé era un calciatore fortissimo, vabbè, è inutile che ve ne parlo perché già sapete Pelé chi era, e quindi è un calciatore molto forte, che non è difficile superarlo. Poi, andando avanti, la Spagna, inoltre a parte gara, è giocato molto bene, Costa Rica, diciamo, non dico che non ci può fare nulla, non ci poteva fare nulla, però dico, diciamo, non si è preparata tanto bene, perché non è stata di sicuro la non migliore partita della Costa Rica, è stata la peggior partita per me che abbia fatto al Mondiale, credo per tutta la sua storia, perché non credo che la Costa Rica abbia perso una partita 7-0, 6-0, una partita di un Mondiale, e quindi, davvero male, 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 male la Costa Rica. Andando avanti, poi, ci sta, andiamo avanti con, ovviamente, la prossima partita, ci sta Marocco-Croazia. Bene, queste le abbiamo saltate perché all'inizio abbiamo parlato di due partite che, diciamo, erano quelle là, diciamo, più belle, ma poi, dopo, andremo anche ad analizzare, andiamo anche ad analizzare Belgio-Canada. Allora, quello che c'è da dire di Marocco-Croazia è che la partita, nel primo tempo, il Marocco ha giocato bene. Nel secondo tempo, la Croazia è entrato in un altro modo, in campo. Scusate. Ok, comunque, mi stavo un attimo, mi si era un attimo lacrimati gli occhi. Comunque, stavamo dicendo, la Croazia era entrata in un altro modo, un altro modo in campo, ha giocato bene, ha mantenuto molto bene il possesso palla, e, infatti, il possesso palla è stato migliore di quello del Marocco, però non è riuscita, diciamo, ad approfittarne in quelle occasioni che ha avuto. Diciamo che è stata una partita, diciamo, non tanto bella, non tanto bella, però, diciamo che le occasioni ci sono state. Poi, ovviamente per tutte e due le squadre, non conto solo la Croazia. Infine andiamo con il Belgio. Belgio-Canada, la partita che, secondo me, questa è, diciamo, la più falsa, da come l'ho visto io. Perché? Allora, a tema arbitrale, io dico che si dovranno dare altri due calci di riguri al Canada, minimo, perché, da quello che abbiamo visto oggi, il Canada, vero, ha sbagliato il calcio di rigore, con David, bisogna dire che il Canada non ha mai fatto un gol nel mondiale, ci sta pure l'ansia, mettetevi nei panni di David, che è un ragazzo di 22 anni, che poi andare a battere quel calcio di rigore contro il Belgio, davanti al miglior portiere dell'anno, courto a, non è facile segnarlo. Comunque, ci sono stati degli errori arbitrali, però il Canada ha dominato il primo tempo. Il Belgio ha segnato a culo. ha segnato a culo. La prima occasione che ha avuto, gol. Ha segnato a culo. E lo ripeto. Quindi, il Canada poi, nel secondo tempo, ha provato a reagire, c'è stata la reazione, ma non quanto quella del primo tempo. Diciamo che poi il Belgio si è, diciamo, ha alzato il baricentro, nel secondo tempo, ha provato anche a raddoppiare, con Bato Chouai, scusatemi per la pronuncia, Bato Chouai, che ha provato a raddoppiare, con le sue occasioni, però non ci è riuscito. Poi, Kevin De Bruyne, come sempre, ragazzi, davvero un centrocampista di qualità, che mi è piaciuto, in questa partita. E, vabbè, poi, il mio rincampo del, il Belgio metterei, proprio l'autore del gol, Bato Chouai, e, niente, questo, metterei. Bene, ragazzi, quindi, questo video, può finire qua, mi raccomando, lasciate like, ci vediamo domani, con gli altri post partita, seguitemi sul mio profilo Instagram, che vi farò domande, domande a non finire, su cosa ne pensate di questa partita. Inoltre, inoltre, mi avevate chiesto, che cosa ne pensavo, della partita, di Francia-Australia. Bene, io, ieri, credo, io sì, ieri, ho fatto il video del post partita, quindi, mi raccomando, andatelo a vedere, ve lo lascio qua, sotto nei commenti, il link del video, cercherò di, darvelo, così per, andare, così, per mandarlo, a chi, non l'ha visto, insomma. Quindi, ragazzi, questo video, può finire qua, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se non l'avete, ancora fatto, attivate la campanella, delle notifiche, che è importante, per non perdervi, nessun video, del mio canale. Quindi, da Marco Fox 2, è tutto, una bacione a Marco Fox 2, beh ragazzi, bella campione! Un, a chi, Grazie a tutti.